Grazie Presidente. Allora, questa mozione nasce da un'analisi del territorio, anzi da alcune proposte che vengono proprio dalle associazioni che si occupano di decoro della città. Ma alle stesse conclusioni è arrivato anche il nucleo ambiente decoro della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno verificato che l'attività degli svuotacantine, quelli che praticamente riempiono la città di adesivi e ce ne sono centinaia di migliaia spargliati su pali, guardrail, muri e quant'altro, dove segnalano un numero telefonico da contattare che a prezzi stracciati offrono dei servizi per svuotare cantine o fare trasloghi, ebbene queste attività non hanno solo l'effetto di sporcare la città con gli adesivi che attaccano, ma hanno un effetto ben più grave che quello di svertamento illecito di rifiuti vicino ai cassonetti alla creazione di discariche abusive che purtroppo molto spesso generano a catena l'ulteriore effetto dei roghi tossici. Queste sono delle situazioni molto gravi, già da tempo associazioni chiedevano delle modifiche alla normativa nazionale con la sospensione dei numeri telefonici che effettuano pubblicità con modalità illegali, e ripeto, alle stesse conclusioni è arrivato anche il nucleo ambiente decoro della Polizia Locale che ha aggiunto un altro aspetto molto molto importante, il decreto legislativo, il testo unico ambientale, il 152 del 2006, prevede il ritiro del mezzo nei casi in cui i soggetti che sversano in modo illecito di rifiuti reiterano il reato. Ebbene, nonostante questa norma sia operativa, già il fatto è inattuata, inapplicabile, in quanto non esiste un archivio nazionale di queste multe, per cui magari lo stesso soggetto ha avuto più multe, ma nessuno sa che effettivamente è stato multato più volte. Ecco, poter generare un archivio nazionale di queste multe permetterebbe di avere molti più mezzi sequestrati, perché in alcuni casi avvengono i sequestri, ma è più complesso. Con questa possibilità e con questo strumento di un archivio nazionale sarebbe possibile poter bloccare i mezzi per un anno in molti più casi e diventerebbe un deterrente incredibile per tutte quelle persone che sporcano la città e che tanti cittadini invece ovviamente si lamentano proprio per la città che è sporca. Ecco, noi chiediamo al governo nazionale di poter intervenire su questi argomenti, è ovvio che chiediamo anche Roma Capitale, deve fare la sua parte e riteniamo che quello che può essere fatto, come è stato fatto anche in altre città, è quello di poter creare dei protocolli di intesa con dei soggetti che recuperano le persone, che mettono le persone in condizioni di poter svolgere il lavoro ovviamente nel rispetto delle regole e questo lo fanno soprattutto alcuni consorsi, alcune associazioni che si dedicano proprio a far sì che magari anche persone che vivono con il recupero di materiali molto spesso in maniera illegale, li aiutano a introdurli nel mercato del lavoro in maniera legale e gli fanno fare tutto il percorso per far sì che poi il loro lavoro venga svolto nel rispetto delle norme. Ecco, per cui creare, poter stipulare questi protocolli di intesa con queste realtà associative diventa un elemento aggiunto nella città per far sì che l'attività venga svolta nella maniera corretta. È ovvio che un'altra cosa che Roma Capitale può mettere in campo è quello di poter tenere un elenco aggiornato delle società che svolgono queste attività in maniera assolutamente regolare e pubblicarlo sul sito di Roma Capitale in modo tale che i cittadini possano rivolgersi a queste attività nel momento in cui ne abbiano bisogno. Un'altra cosa che noi chiediamo nella mozione e la chiediamo sempre a livello nazionale, al governo nazionale è la possibilità di inesprire le sanzioni per i cittadini che incautamente consegnano i propri rifiuti alle società non regolari. Io ricordo che sul tema dei roghi tossici l'assemblea si è già espressa su una mozione sempre a mia prima firma e con la possibilità di creare un tavolo interforze proprio di contrasto al fenomeno dei roghi tossici. Di recente è intervenuta anche la delegata della sindaca Federica Angeli che ha dato un impulso a questo lavoro per cui noi procediamo su questa attività. Io credo che sia importante mettiamo insieme tutti questi tasselli, possiamo contrastare coloro che sporcano la città e migliorare il decoro di Roma. Io pertanto chiedo a tutta l'Aula di poter votare favorevolmente questa mozione. Questi sono argomenti abbastanza trasversali che riguardano anche il Parlamento nazionale. Noi da parte nostra come Movimento 5 Stelle ci stiamo adoperando ovviamente con la forza politica. ai nostri rappresentanti in Parlamento nazionale perché diano seguito alle richieste che vengono effettuate con questa mozione. È importante comunque approvare questo testo perché ovviamente dà forza a questi concetti. Mi auguro che lo possano fare anche le altre forze politiche iniziando votando favorevolmente a questa mozione. Grazie Presidente.